Cosa era? Cosa era? Fermi tutti! Perché ero così spaventato? E perché il mio amico Game Time mi ha detto Dunis ma che razza di gente gira intorno a casa tua? Ero andato a prendermi un kebab sotto casa tua ma ho visto Cutnap che si stava girando in zona Che cavolo stava facendo? Forse o voleva un kebab anche lui Oppure ti stava venendo a prendere quindi fai attenzione E perché c'era una pozione che si illuminava? Ma ragazzi si sta illuminando Ma la storia però non parte da qui Parte da molto prima Sono stato bloccato dentro la mia camera Perché dovevo giocare a Poppy Playtime Non so chi mi avesse bloccato Forse era entrata una persona estranea all'interno di casa mia Ma non credo Non c'erano altri suoni Ma c'erano degli avvistamenti Questa è una storia che ha dell'incredibile E' spaventosa Ero in pericolo Ma l'unico modo per uscire da quella stanza era giocare al nuovo capitolo di Poppy Playtime E più avanti ricordate questo Ma come diavolo sono arrivato? Alla telecamera che mi si spossa mentre giocavo Ecco tutta la storia Che cacchio è sta roba? E' Cutnap? Ero molto affascinato da questo gioco Però ero anche spaventato dal fatto che fossi bloccato All'interno della mia stanza Non riuscivo ad accettare questo fatto E stavo cercando disperatamente qualcuno Che mi aiutasse Per uscire da quella stanza Ragazzi io sono meravigliato da tutta questa cosa Vi rendete conto che siamo nel capitolo 3 E io devo trovare la creatura per poter uscire Da questa dannata stanza? Forse dovrò trovare Cutnap O qualcuno che mi aiuti Ma non credo che Cutnap sia buono però Mi sa che è il mostro Ok adesso devo fare la speedrun Dai dai Ok perfetto così Ok perfetto E qui che diavolo c'è? Ok mi sto abbassando Ok si va da questa parte Oddio ragazzi ho paura di incontrare Cutnap Oppure magari gli smiling critters ancora peggio Sono davvero inquietanti loro Mi fanno paura Apriti Perfetto Oddio non si vede niente Bene 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 Ok Oddio che cacchio è? No 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 ragazzi No 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 Chi era quello? Quello era Cutnap per caso? Vorrei un attimo guardare qua sopra Come è fatto ad andare qui il tizio? Ecco i condotti sono i peggiori nemici nostri Perché nel primo capitolo Era veramente brutto eh Quando ci seguivano nei condotti E non vorrei che succedesse di nuovo Perché mi cago addosso Ma raga ma tanto Perché a me quella parte lì Era la cosa più ansiogene E paurosa che potesse esistere Fatemi uscire ho paura Aiuto Ok da qua da qua Ok perfetto Vedete Ok allora Qua bisogna mettere delle cose Delle batterie Se vedete qui ci sono altre Bambole appese Ed impiccate Aspetta eh Così Aha guardate qua Cosa c'è? Una batteria Devo quindi via così Carica 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 Per questa dannata porta Prima che arrivi qualcuno Ok via 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 Che diavolo c'è qui? Dice Puoi sentirmi? Grazie Forse è lui che mi aiuterà ad uscire da questa stanza Può essere ragazzi? Perché mi sa che io sono stato completamente intrappolato qui dentro E quindi devo Dovevo trovare un aiuto Qui Nel gioco Per poter uscire Ed in effetti l'ho trovato Comunque se vedete Questa è la metropolitana E a me ricorda molto La metropolitana di Project Playtime O mi sbaglio E più andavo avanti nel gioco E più mi chiedevo Chi caspita mi avesse chiuso all'interno Di quella stanza Ho superato mille peripezie E alla fine Sono arrivato nella Playcare Un posto di Gioia Ma guardate bene la telecamera Tutto ciò è terrificante Che diavolo era? Ma purtroppo le cose non finiscono qui Andando sempre più avanti E risolvendo gli enigmi Di Poppy Playtime Arrivo Nella casa Dolce casa E all'interno di questa casa Ci sono dei corridoi Lunghissimi Infiniti E c'è Catnap Che mi insegue Ma purtroppo Non è solo nel gioco Che mi insegue Senza le mie mani Non mi sento protetto Qua mi sa che ci aspetta un jumpscare O come questa impressione raga Mi sa che ci aspetta un bel jumpscare Pauroso eh Che sta chiamando? Pronto? E' da questa parte è vero Che sta arrivando la chiamata? Pronto? Eccolo qua Dimmi Devi correre No Che senso? Perché devo correre? Perché devo correre? No 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 raga Non ho sentito la dichiarazione La playtime Su un'incidenza di Ludwig In molti giorni che si rivelano Nel decente precedente Ha portato a diffidare di questa dichiarazione Alla domanda I vicini Ludwig Dichiararono che spesso Rincasava A orari insoliti della notte Raga mi si sta muovendo anche la telecamera Che diavolo sta succedendo? E riparti all'alba Alcuni credevano che fosse malato Eh ma io sono in gabbia Però lui è malato Io sono in gabbia Non muoverti Non muoverti Dice Playtime co Pare Nonostante tutto Però Elliot Marchio Raga Cosa sta succedendo? Che sei Da questa parte Devo andare Immobile Dice di stare immobile raga No 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 C'è qualcosa che non va raga qua Mi Prima di tutto Mi si era mossa la telecamera Oh Ciao No 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 per favore no No per favore no Raga mi si era mossa la telecamera Catnap Sei tu? Catnap Raga Raga è andato No raga Mi si sta muovendo No 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 Voi non state vedendo Mi si sta muovendo la telecamera Mi si sta muovendo La telecamera con la quale registro E qua catnap anche da me Non mi dire che è qua Perché l'ho già visto Raga che cacchio sta succedendo? Mi sto spaventando dannatamente tanto Non avete idea di quanta paura Io abbia in questo momento Sono terrorizzato Da questa situazione Anche perché poi questo è un corridoio infinito E non sembra Mai appunto finire Proprio per la definizione di infinito Ma qui? Che cosa c'è? Non so se devo andare avanti O a sinistra Ma io procederò avanti Non per un qualche motivo Ma perché Boh Magari Devo andare avanti Non lo so Non so nemmeno dove sia andato Catnap E questo è il problema Perché me ne andrei via da lui Però qua mi sa che non posso andare C'è scritto Gult Che non so O forse Gult How I see you Gult Chi è Gult? Praticamente Gult ti sta cacciando C'è scritto raga Chi è Gult? Chi cacchio è Gult? Oh mio dio Chi cacchio è Gult? Ok però so che devo andare da questa parte Allora Poi prima mi stava dicendo Di stare immobile Ah ma io non sto immobile Non mi frega No non voglio Mi dice di alzarmi Ma che cacchio vuol dire? Forse nella vita reale Devo alzarmi nella vita reale Ah No 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 Avete visto? Che cacchio è successo? No 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 Raga Raga che cacchio sta succedendo? Raga io Raga Raga non devo giocare a sti giochi Perché sono maledetti Sono maledetti cacchio Sono maledetti Oh mio dio Di bambini che piangono Oh mio dio raga Questa cosa è veramente Terribile E non mi è chiaro nemmeno Che cacchio devo fare qui Finalmente la tua coscienza Sta tirando fuori il meglio di te Oh no Scoprire tutto quello che ti aspetta Un orrore incomprensibile Ma che cacchio Ognuno ha fatto Di riaverti Ognuno ha desiderato Di trovarti Ognuno ha affamato Forse ti sorriderebbero dall'ombra Le loro boccucce sorridenti Piene di denti E carne E plastica Guardano e aspettano pazientemente Il proprio turno Per un caldo benvenuto O forse Non ti concederanno il tempo Per capire il tuo posto Nel mondo che hai lasciato Un mondo Che adesso è loro Qui è uscito il cacchio Di Huggy Wuggy Dallo schermo E hai iniziato Ad inseguirmi Io ero pietrificato No 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 Raga 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 No 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 Che caspita sta succedendo Raga mi si stanno cambiando le luci No 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 Raga è dietro Ah Mi ha preso Mi ha preso e mi ha portato qui Mi si è sbloccata la porta Aspettate devo andare a vedere Quindi ora finalmente potevo andare a vedere Cutnap Ma non dovevo farlo Il quantitativo di paura che ho in questo momento Perché sto cercando quella dannata cosa ragazzi E Cos'era? No ragazzi veniva da qui Ho sentito qualcosa Ma che diavolo era? No Io ho paura Guardate Se mi giro praticamente dietro di me Lì Devo andare da quella parte In teoria è lì che È stata avvistata Almeno È lì che mi ha detto di andare a vedere Cos'era? Ho visto qualcosa nel reflex Cioè dico nell'iPhone Era qualcosa oppure no? Ti prego basta Io Ma perché faccio queste avventure pazzesche? No 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 Ragazzi sto sentendo un presentimento molto brutto È bello Avervi qua con me Perché giuro Ho paurissima Non so Sono molto serio in questo momento Raga guardate Cioè qua Non so se si vede qualcosa Mio dio È terrorizzante Ma dove cacchio abito? Cioè guardate Non si vede niente Ok ora si vede bene Guardate qui Ho visto qualcosa C'era qualcosa O mi sbaglio? Qua non c'è anima viva A volte Passa un'auto E poi tipo Vedo cose E secondo me Non sono nemmeno vere Raga io qui Vi giuro Mi sto spaventando molto E poi guardate Vedete quel buio Che c'è lì davanti Vedete quel buio Quel buio lì In realtà È tipo la montagna Non ho capito Ma quella cosa lì è terrorizzante Secondo me Da quel buio Chissà cosa si nasconde Lì dentro eh Ragazzi ho visto qualcosa Ragazzi 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 Guardate 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 Cos'è C'è il mio cane qua Ma ragazzi si sta illuminando Vedete una pozione Guardate Mi giro così Sì si vede meglio È una pozione Si è illuminata di nuovo Assurdo La sto bevendo Adesso la bevo Guardate Ok ho bevuto Raga cosa sta succedendo Cos'è quella cosa No 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 Andiamo 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 No 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 Raga Raga devo scappare Raga devo scappare Raga devo scappare No 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 Non c'è anima No 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 Ho visto qualcosa Ho visto chiaramente qualcosa Di solo di me No 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 C'era qualcosa C'era qualcosa C'era qualcosa C'era qualcosa No 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 Che diavolo sta succedendo qua raga Questa cosa non va per niente bene Accidenti No 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 Io ho visto qualcosa Qua mi devo girare Raga Oddio santo Ho bevuto la pozione Ed è venuto È venuta la creatura È venuta Mi sono anche scordato il nome Come cazzo da si chiama Cos'era Cos'era Ragazzi Ragazzi Cosa Cosa diavolo era Ragazzi Sto tornando Mi sono portato dietro il mio cane Perché mi sto Cagando Addosso Ma tantissimo Ma avete visto Che diavolo Era quella cosa Era assurda Assurda No 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 Cioè se io Io sto impazzendo Raga Oppure ho visto davvero qualcosa Adesso me ne torno a casa Prima che mi ammazzi Quella roba là Ma stiamo scherzando No 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 Io mi devo controllare dietro Perché non vorrei che Arrivasse quella Raga Vi giuro Che sto piangendo Corriamo 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 Via 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 Ragazzi Mi sa che ce l'abbiamo fatta Che bello Si Che bello